Sono stati nominati in regione cinque direttori di dipartimento. La Lega Abruzzese aveva deciso di mostrare i muscoli, minacciando di non partecipare più alla giunta, ma l'incontro all'Aquila tra le componenti del governo regionale ha ricucito lo strappo in seno alla maggioranza e così è giunta la fumata bianca sulle nomine dei cinque direttori di dipartimento. Il ruolo di maggior prestigio, quello di direttore generale, se lo è giudicato Barbara Morgante, 57enne teatina, ex amministratore delegato di Trenitalia. Capo dipartimento del bilancio e delle risorse umane è Fabrizio Bernardini, pescarese, ex segretario generale della provincia di Pescara. Per le infrastrutture e i trasporti è stato confermato il guardiese in medio primavera, mentre per il Dipartimento della Salute è stato nominato l'attuale direttore generale dell'ASL di Teramo, Roberto Fagnano. Capo dipartimento dello sviluppo economico e del turismo è invece Germano De Santis, già dirigente regionale. Ha vinto la linea della Lega, ha dichiarato a Maggi nel deputato del Carroccio Luigi Deramo. Caso curioso è che per Bernardini e Primavera si tratta di una conferma. I due infatti già ricoprivano lo stesso ruolo nel governo di centrosinistra guidato da Luciano D'Alfonso. Fagnano invece è stato promosso per iniziativa dell'attuale giunta, ma era stato nominato direttore dell'ASL Teramana anche lì dall'ex governatore del PD. La stessa Morgante aveva già ricevuto la proposta di assumere il ruolo di direttore generale proprio da D'Alfonso, ma che rifiutò per non lasciare la posizione ai vertici di Trenitalia. Adesso si attende la nomina del direttore del Dipartimento dell'Ambiente e quella dei direttori generali delle ASL di Chieti e dell'Aquila. Bisognerà nominare anche il direttore di quella di Teramo, posto lasciato vacante da Fagnano, e rimangono i riflettori puntati anche sull'ASL di Pescara, in quanto il mandato dell'attuale direttore volgerà presto a termine.